Era il 22 ottobre del 1998. Da quella sera sino ad oggi non ho preso più droghe pesanti, niente eroina, cocaina, pasticche, nulla di nulla. A 17 anni circa, con il mio amico di allora, che poi è diventato mio marito, fumo invitati a fumare uno spinello, una sigaretta di hashish. Abbiamo fumato insieme ed è andata avanti così. Le due o tre volte successive che ci siamo visti ce lo siamo fatti offrire ancora. Poi abbiamo iniziato anche a comprarlo, all'inizio più o meno 10 grammi, che poi ci fumavamo nei fine settimana. Succede che poi si incontrano sempre più persone che assumono droghe e si impara a conoscere tutte le droghe possibili. Ho anche iniziato con i viaggi in LSD, con lo speed, cocaina, pasticche unite all'alcol, sino all'eroina. Se ci penso, non mi viene in mente nessuna droga, ecstasy o altro che io non avessi preso. Proprio tutte le droghe senza eccezioni, funghi allucinogeni, in pratica tutto. A causa dell'eccesso di consumo di droghe ho avuto dolori alle articolazioni e a causa di questi sono andata dal dottore che mi ha praticato l'agopuntura. Da questo dottore ho visto il volantino «Guarigione per via spirituale secondo l'insegnamento di Bruno Gröning». Invito a una conferenza medica. La conferenza informativa con medici era il 22 ottobre del 1998. La conferenza medica informativa era finita. Siamo tornati a casa in macchina ad un tratto. Mi venne un pensiero. Ora smetti di fumare. La smetti di fumare Ashish. Allora l'ho detto a mio fratello. Sai una cosa, smetto di fumare Ashish. E lui. Sì, sì, Andrea. La conosco questa storia. Mi ha risposto così. Beh, chiaro. Lui mi ha visto per 18 anni dipendente e sapeva che non potevo resistere senza droghe. È successo così. Era il 22 ottobre del 1998. Da quella sera sino ad oggi non ho preso più droghe pesanti. Niente eroina, cocaina, pasticche. Nulla di nulla. Quello che per me è così interessante e importante dal punto di vista medico è che non ha avuto sintomi di astinenza. Di solito, dopo decenni di abuso di droghe, il corpo ha delle reazioni e nel suo caso non è accaduto. Il racconto della signora Mattel Schweiger è molto singolare perché non si spiega né dal punto di vista medico né da quello psicologico. Questa guarigione non poteva avere luogo così. Avrebbe dovuto avere sintomi di astinenza dopo la conferenza e sarebbero dovuto durare due o tre settimane. Dal punto di vista psicologico non si spiega che non abbia mai dovuto resistere a una crisi di astinenza e non abbia seguito una terapia. Uno non può liberarsi dalla tossicodipendenza così. Aveva una forte dipendenza. Poi con la ricezione dello Heilstrom durante la conferenza informativa, dove si era rintronata con l'Ashish prima di entrare, se ne è spontaneamente liberata e lo è tuttora. Sono già passati dieci anni. Per me, dal punto di vista psicologico, non è né spiegabile e neanche fattibile. Ricordo ancora quando avevo il racconto della guarigione sul computer e la leggevo. Sono rimasto a bocche aperte. Ho guardato a lungo lo schermo e non mi veniva in mente nulla. Sono così ancora oggi. Non riesco a trovare una spiegazione. Oggi sto davvero molto bene. Mi sento libera e posso di nuovo godere della mia vita. Oggi posso semplicemente sedermi da qualche parte in città a bere qualcosa senza dover pensare. Dove prenderò la prossima dose? Sì, mi sento una ragazza sana, piena di gioia di vivere, gioia di poter di nuovo godere della mia vita. Io posso un altro video di vivere. Io posso un altro video di vivere. Io posso un altro video di vivere.